Prevenzione incendi. È quanto previsto dall'ordinanza emessa dal Comune di Giungano, nel corso della stagione estiva ormai alle porte. Il provvedimento vieta di accendere falò, materiale infiammabile, e bruciare sterpi nell'ambito del centro urbano, al fine di conservare il patrimonio boschivo. Inoltre, i proprietari dei terreni a valle del centro abitato, che partono da via San Giovanni fino a via Dante Alighieri, e quelli che si trovano a Monte, dalla contrada San Giovanni fino alla contrada Copparelli, sono anche obbligati a tenere i terreni sgomberi da sterpie e stoppie e a creare una fascia fuoco larga almeno 50 metri. A chi trasgredisce tale ordinanza saranno fatte carico le relative spese e l'ente comunale di Giungano procederà ad ufficio.